Questo è uno di quei video fondamentali che metterò nella playlist gli imperdibili perché è veramente importante dato che spesso ci troviamo di fronte, spesso insomma ci troviamo di fronte alla fine di relazioni e la fine delle relazioni è molto simile alla perdita di qualcuno e addirittura, come spesso dico con le persone con cui lavoro, la fine di una relazione per certi aspetti è peggio della morte di una persona. Non sto esagerando, vi spiego in che senso. Gli aspetti sono diversi e ne prendo uno che secondo me è il fondamentale e cioè che nella morte di una persona quella persona muore, non c'è più anche se vogliamo riparlarle, mandarle un messaggio. Non possiamo, so che è banale, ma pensate a quanto questo aiuti nel farsi alla fine una ragione della perdita di questa persona. Mentre quando una storia finisce quella persona continua a esistere, sfortunatamente alle volte, continua a esistere e quindi teoricamente noi potremmo continuare a fantasticare del fatto che magari quel giorno quella relazione ricomincerà, ci sarà un riavvicinamento, ma alla fine non è veramente finita. Sì, ok, adesso sta facendo così, ma lo fa soltanto per farmi ingelosire? E questo è un grosso problema, perché ci permette di non tagliare mai il cordone ombelicale. Allora, per spiegarvi bene come funziona, utilizzo la teoria in assoluto più accreditata, che è quella di Elisabeth Kubler-Ross, che divide la fine di una vita, il distacco con una persona, quindi anche la fine di una relazione, in cinque fasi. Le ho sintetizzate con una tecnica di memoria, che è nepara-duck. Nepara-duck è un acrostico e sono le iniziali delle parole che dobbiamo memorizzare. Ne sta per negazione, che è quello di cui vi ho appena parlato, cioè il fatto che non accettiamo che la storia sia finita. Molte persone rimangono in quella fase per tutta la vita. Pa sta per patteggiamento. Patteggiamento vuol dire che troviamo qualcosa con cui sostituire quell'emozione, un amico, una persona, un'altra persona con cui avere una relazione, il classico chiodo-scaccia-chiodo. Rasta per rabbia. A un certo punto abbiamo dei muoti di rabbia nei confronti di noi stessi, nei confronti dell'altra persona. È un punto importante da capire, abbiamo visto soltanto i primi tre, ce ne mancano due, è che si fa un avanti e indietro, cioè le fasi non sono a compartimenti stagni. Ho la negazione e poi faccio il patteggiamento, ma durante il patteggiamento magari ho dei momenti di negazione. Sono con un'altra persona, però continua a fantasticare della storia precedente. Insomma, un bel casino. Le ultime due fasi sono DAC. D sta per depressione, che gioia. H sta per accettazione. Depressione è il momento in cui stiamo male, stiamo veramente male perché ci stiamo finalmente per rendere conto davvero che quella relazione è finita per sempre. H sta per accettazione, è ovviamente la fase finale nella quale ci siamo fatti una ragione e la cosa ce la siamo buttata alle spalle. La cosa importante da capire è che le fasi vanno attraversate tutte quante. Quelle persone che terminano una relazione e il giorno dopo stanno già bene. Beh, o quella relazione era già finita tempo prima e quindi prima avevano attraversato tutte quante le fasi, oppure semplicemente stanno rimanendo nella fase di negazione, si stanno allontanando emotivamente da quella situazione e ci rimangono per tantissimo tempo. Le emozioni, anche quelle negative, vanno elaborate. Grazie. Grazie.